non devi tornare giù è il fermo che gli ho messo ma l'hai fatto? poi argilli stanno nel cavasacchino oh mi raccomando i ferri sono per i cancelli ero a morire a pensare che è sotto il cavasacchino ho toccato la carburazione aspetta che vuoi cercarlo no perché gli si è aperta la cassafitto no si riempira la carne ma almeno l'hai peccato è per quello che gli ho detto che c'era dentro il sassetto quando ha spinto la vite l'ha spostato andava da dio c'era un problema non so dove è resta aperto il galleggiante il galleggiante è rimasto su penso più se arrivava il mio amico Andrea che fuma è una matrimonio è